5 chilometri di vecchie condotte sostituite con tubazioni nuove e performanti. 1300 nuovi contatori installati, rete idrica comunale che passa da 30 a 38 distretti, così da ridurre la durata e il numero dei guasti e limitare in caso di guasti improvvisi i conseguenti disagi ad un numero minore di utenti. Sono questi alcuni dei numeri degli obiettivi raggiunti da Gori a Torre del Greco grazie al progetto Azioni per l'Acqua, il maxipiano di interventi per il risanamento della rete idrica, la riduzione delle perdite e la tutela della risorsa. Ieri pomeriggio presso il serbatoio di via Montedoro, il sopralluogo per visionare alcune delle strutture realizzate in collaborazione con l'amministrazione comunale al fine di alimentare tutta la zona alta della città e superare definitivamente le criticità legate alle carenze di acqua e di pressione che si presentavano soprattutto nel periodo estivo. Presenti il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella e il presidente di Gori Sabino De Blasi, l'amministratore delegato di Gori Vittorio Cusciniello, il coordinatore del distretto sarnese Vesuviano, dell'ente idrico campano Raffaele Coppola e il presidente dell'ente idrico campano Luca Mascolo. Sindaco Mennella, oggi è una giornata importante, si risolve un'annosa questione, finalmente arriva l'acqua nella zona alta della città. Finalmente sì, ci è voluto un po' di tempo, però devo dire anche grazie, bisogna dare al Cesare, il credito Cesare, ad un impulso dato all'epoca dall'assessore Speranza dell'altra amministrazione e questo impulso l'ha dato a me in qualità di vicepresidente della Gori. Ci possiamo dichiarare soddisfatti perché è veramente un'opera importante che dà finalmente serenità, tranquillità alle persone che finalmente a casa hanno l'acqua, la pressione dell'acqua e tutti i benefici. Quante saranno le famiglie che soffriranno di questo serbatoio? Guardi, questa è una zona abbastanza grande, devo dire, numericamente non so esserle preciso, ma crede che stiamo parlando intorno a oltre 5-6 mila persone, insomma parliamo, e quindi è una cosa seria e importante. Come i Gori, questa è l'ennesima opera che portiamo a compimento e in questo caso, in questa località, Montedoro, abbiamo realizzato l'impianto di sollevamento e così finalmente anche la parte alta di Torre del Greco fruirà costantemente della possibilità di attingere all'acqua. Stiamo andando avanti anche per l'altra grande sfida che abbiamo raccolto, che si chiama Azioni per l'acqua, e quindi tendiamo a ridurre intanto notevolmente le perdite sull'intero territorio di nostra gestione. In particolare per quanto riguarda Torre del Greco abbiamo recuperato addirittura il 40% delle perdite annuali, su base annuale rispetto all'anno scorso, portando le perdite dagli 8 milioni a circa 5 milioni, quindi abbiamo recuperato 2 milioni e 8 di metri cubi di perdite di acqua all'anno. Un'altra sfida ambiziosa resta il recupero della balneabilità in questo territorio. A che punto siamo? Recupereremo l'intera balneabilità, la balneabilità dell'intera zona, quindi da San Giovanni a Teduccio a Sorrento, e credo che già nell'estate del 2024 ci saranno riscontri significativi e ultimeremo il tutto entro il 2025. Noi restituiamo a un territorio, a un'economia, agli abitanti della zona, una possibilità eccezionale di poter fare i bagni qui e di poter poi camminare su spiagge incontaminate. Un intervento che si inquadra nel programma Azioni per l'Acqua e che ha previsto la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento al partitore Montedoro. È una condotta probabilmente di circa 500 metri fino al serbatoio, una condotta DN200 in Ghisa, proprio per superare i problemi di carenza idrica del distritto Montedoro. Inoltre abbiamo completato l'intervento facendo l'impianto di sollevamento che vedete qui al serbatoio e una condotta da cento in Ghisa per poter alimentare le utenze a quota più alta. Quindi siamo arrivati a circa 336 metri sul livello del mare, quindi ad ampliare il distretto Montedoro e quindi a completare il progetto di ottimizzazione del comune di Torre del Greco. Gli imponenti interventi che abbiamo messo in campo e che continueranno anche con la nuova programmazione sono interventi che puntano a ridurre le perdite, a sostituire le redi ammalorate, ma soprattutto puntano anche ad implementare la risorsa all'origine. Oggi è uno di quei momenti in cui tangibilmente i cittadini possono apprezzare quello che è lo sforzo che la Regione Campania, l'Ente Indrico Campano e il gestore Gori nel distretto Sarnese-Vesuviano mettono in campo tutti i giorni. Noi con questo intervento, che è un intervento, voglio ricordarlo, totalmente finanziato con fondi ex tariffe, quindi finanziato non mettendo le mani nelle tasche dei cittadini, ma essendo bravi a competere sui bandi nazionali e facendoci finanziare le cose che facciamo, noi cambiamo la vita dei cittadini in questo territorio. Questo è il bello del nostro lavoro, mettere insieme la filiera istituzionale, quindi Regione, Indrico, Banca e il gestore, per fare modo che questo lavoro non serviva chissà che cosa, ma cambia la vita di tutti i giorni, che l'acqua entri in tutte le case e il nostro diritto e dovere fare in modo che entri nel migliore modo possibile. Si realizza un sogno che andava realizzato. Il mio era un impegno morale, prima da cittadino e operatore del comitato di quartiere del posto, risalente a circa 30 anni fa, e poi da amministratore. Non mi sono lasciato scappare l'occasione quando mi si è presentata la possibilità di interloquire con la Gori per altre vicende da espletare sul territorio e tra le tante desiderate c'era anche la richiesta di completare questa parte di Acquedotto per l'ultima zona di Monde d'Oro. Diciamo che ho trovato subito sponda nella persona dell'attuale sindaco all'epoca vicepresidente della Gori che raccolse positivamente questa richiesta, questa proposta, le maestranze tutte e gli uffici che hanno fatto anche loro la loro parte. Vedere portare al termine una iniziativa che ha visto la nascita con il sottoscritto da assessore della scorsa amministrazione, oggi vederla completare, dico e sottolineo sempre grazie anche all'attuale amministrazione che ha voluto fortemente la conclusione, per me veramente è un motivo di orgoglio. A seguire la presentazione degli interventi a Palazzo Baronale con un focus anche sui lavori alla rete fognaria che vedono Torre del Greco interessata da un'ulteriore importante opera di risanamento ambientale. Il collettamento dei refri provenienti dall'intero territorio comunale, circa 100.000 abitanti, all'impianto di depurazione Foce Sarno. Quest'intervento a cura di Gori sarà ultimato nel 2025 e contribuirà in maniera significativa al disinquinamento dell'intero Golfo di Napoli, un significativo traguardo frutto anche di una virtuosa collaborazione istituzionale.